più volte mi è capitato di essere tranquillo con i miei amici e di iniziare a pensare ad un progetto a una strategia che sarebbe potuta essere vincente col tempo poi ho provato a realizzarne diverse di queste idee che ci sono venute durante queste nostre sedute e ho capito una perfettamente una cosa che non c'è una formula magica per avere successo in compenso però c'è un fattore che sicuramente il successo non te lo farà mai avere e questo fattore è la fretta ebbene sì perché quando una persona fretta non vede le vere esigenze del mercato e della situazione in cui è entrato perché infatti cercherà di muoversi completamente di impulso a velocità elevatissima senza una pianificazione e una strategia adeguata il consiglio che ti posso dare infatti è quello di sederti riflettere e aspettare inizia a studiare bene l'ambiente in cui sei entrato e inizia a focalizzare le scelte future che dovrei fare c'è un detto famoso che dice che la gatta frettolosa feci gattini ciechi beh quindi se vuoi che il tuo progetto non finisca per essere un gattino cieco non avere fretta e ricordati che questa strategia non riguarda soltanto il business ma riguarda ogni aspetto della tua vita